È un ritiro che sta finendo, sta cominciando anche il campionato. Un punto della situazione ti chiedo su come sta andando il ritiro e su come ti trovi tu personalmente? No, il ritiro sta andando benissimo perché comunque stiamo lavorando bene, il clima è sereno, il gruppo, la squadra è una squadra positiva dove si ride, si scherza e quando c'è da lavorare lavoriamo bene. Manca poco, mancano dieci giorni all'inizio della Coppa Italia e venti al campionato e stiamo sulla strada giusta. Hai detto tu bene, Coppa Italia prima e il campionato poi con la Roma sarà l'esordio della Serie A 25-16 e ci si aspetta magari anche tanto in questo match che aprirà proprio il campionato. Sicuramente sarà una partita importante perché comunque inizierà il campionato, ci sarà tantissima gente che vedrà quella partita ma noi punteremo subito a fare bene perché iniziere bene il campionato è importante e poi una vittoria davanti ai nostri tifosi sarebbe veramente il massimo. Sei arrivato qui nel gennaio 2013, paradossalmente essendo uno dei più giovani, anche uno che in questo gruppo ha più esperienza di tutti, qui a Verona parliamo. Segno anche che qui comunque ti trovi bene. Io qua mi trovo benissimo, ho passato un anno importante con la promozione Serie B i primi sei mesi di Serie A dove ho imparato tanto e poi ho girato un po' ma come Verona ce ne sono pochi in giro. Hai ritrovato qui quest'anno un compagno di Under 21, Viviani, siete comunque in tanti giovani, segno anche che sta nascendo un nucleo importante che può dare futuro a questa società. Quanto è importante secondo te? Sicuramente che ci siano dei giovani è positivo perché vuol dire che c'è rinnovamento, c'è voglia di crescere. Sicuramente è importante avere giovani come è importante avere gente esperta come c'è qua, come Tony, Pazzini, Moras, Marquez e tutti gli altri che ci possono dare una grossissima mano. Ecco gli hai citati tu, Tony e Pazzini. Partiamo dal passo. Quanto è difficile marcarlo in allenamento? È difficile, infatti per noi giovani difensori è una cosa positiva perché marcare lui e Luca è un ottimo allenamento per poi mettere in pratica in partita. Passiamo a Luca, capitano dentro e fuori dal campo, possiamo dire tanti consigli a voi giovani, che rapporto c'è tra te e lui? No, in campo ci dà tantissimi consigli, ci sprona, cerca sempre di girare fuori il massimo da ognuno di noi e poi fuori è uno a cui piace molto scherzare e farci divertire. E alla fine, l'ultima domanda, cosa ti aspetti tu personalmente da questa stagione? Mi aspetto di quando verrà il mio momento di dare il massimo, cercare di fare bene e migliorare ulteriormente rispetto agli ultimi anni. Grazie. Grazie.